Ciao Marco, io sono il salutatore. Ok, quindi che devo fare? Un saluto a tutti i tuoi fan. Un saluto a tutti i fan e ai fan del salutatore. Grazie, ho una sorpresa con te, ferma, aspetta, aspetta, aspetta. La mania del salutatore ce la devi avere. Ciao, grande Marco e il suo a tutti i fan del salutatore. Grazie, e di Ballando delle Stelle. Ciao.